A tutti voi buonasera dal Tg Max, il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato il regolamento sulla Tares, la nuova tassa sui rifiuti, l'ultima rata si pagherà entro il prossimo 16 dicembre e previste diverse agevolazioni. Con 20 voti a favore, 2 contrari e 5 astenuti, il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato il regolamento sulla Tares. La terza e ultima rata della nuova tassa sui rifiuti si pagherà entro il 16 dicembre. Il Comune ha previsto una serie di agevolazioni, chi ne ha diritto dovrà presentare agli uffici competenti e la propria istanza che sarà sottoposta a verifica. Da giovedì 24 ottobre, ha detto l'assessore al bilancio Massimo Filippello, il Comune invierà a domicilio i bollettini precompilati o il modello di pagamento F24. Ad ogni modo, chiunque si accorgesse il ritardo di non aver chiesto l'agevolazione potrà farlo entro il 31 dicembre di ogni anno. Per la prima volta, ha aggiunto l'assessore, ci sarà una tassazione equa nei confronti di tutti i cittadini. Le utenze domestiche pagheranno la tassa in funzione del numero degli occupanti una casa. Le attività economiche pagheranno sia per le superfici occupate che per le tipologie di attività espletate e sono 30 le categorie individuate in relazione all'omologa potenzialità di produrre rifiuti. Il saldo della Tares è previsto entro il prossimo 16 dicembre. La scadenza è stata uniformata al versamento di 30 centesimi al metro quadrato che i cittadini dovranno pagare direttamente allo Stato per non creare disagio all'utenza. La Giunta Comunale si è però riservata alla possibilità di prorogare la scadenza della terza rata al 31 marzo 2014 nel caso in cui si dovesse verificare un sovraffollamento di utenti che hanno bisogno di chiarimenti o di un ritardo nell'emissione o nel recapito dei bollettini di pagamento. Tra le agevolazioni si segnalano la riduzione della Tares del 50% per i cassi integrati, del 70% per coloro che sono senza occupazione e vivono in una condizione di disagio, del 20% per le famiglie numerose con almeno tre figli minorenni e infine del 30% per quegli esercizi pubblici come bar e tabaccherie che toglieranno dalle loro attività slot machine e qualsiasi gioco che preveda premi in denaro per contribuire alla lotta contro la dipendenza dal gioco. Un detenuto albanese di 41 anni è morto nel carcere di Castrogno a Terramo per arresto cardiocircolatorio. Sarà l'autopsia a stabilire se il decesso sia legato alla rottura di alcuni ovuli contenenti eroina che l'uomo potrebbe aver ingerito per nasconderli al momento dell'arresto. Ieri mattina l'uomo era in cella da ieri sera dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice e conseguente ordinanza di custodia cautelare in carcere. Era stato sorpreso dalla guardia di finanza di Giulia Nova con la droga. È possibile che poco prima nel tentativo di occultarla abbia ingoiato alcuni ovuli che si sono rotti liberando la sostanza nello stomaco. L'adrinazione nella notte in casa del sindaco di Ocre nell'Aquilano, svaliggiata la cassaforte, il bottino si aggira sui 200 mila euro. Ancora furti nell'Aquilano, questa volta ad essere stato preso di mira l'appartamento di Via Savini in centro all'Aquila del sindaco di Ocre, Fausto Fracassi. Stando ai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri dell'Aquila, i malviventi si sarebbero introdotti nell'appartamento sfondando una finestra. Da quello che si vince sembrerebbe un colpo studiato nei dettagli visto che i topi d'appartamento sono andati a colpo sicuro verso la cassaforte, al cui interno c'era un vero e proprio tesoretto consistente in gioielli, orologi, soldi contanti ed una collezione di una nota casa produttrice di penne. I ladri hanno agito mentre in casa non c'era nessuno. Ad accorgersi dell'ingente furto, lo stesso sindaco che ritornando in casa intorno alle due di notte ha scoperto di essere stato svaliggiato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia dell'Aquila che hanno eseguito i rilevi di rito. Un piano ben studiato dunque, quello dei ladri, che non avrebbero toccato nulla di quanto c'era nell'appartamento, dirigendosi direttamente a colpo sicuro alla cassaforte. Probabilmente i ladri conoscevano il suo contenuto e in un raid di pochi minuti hanno scassinato il vano blindato portando via tutto il suo contenuto. Amminacciato di morte con un coltello un impiegato dell'ACA di Pianella dopo aver ricevuto un preavviso di distacco della fornitura di acqua potabile per morosità. L'uomo, un sessantenne disoccupato, è stato fermato dai carabinieri e dopo una perquisizione trovato in possesso del coltello usato, nascosto nel giaccone. Trascorsa la flagranza è scattata la denuncia per i reati di minaccia aggravata e porto ingiustificato di arma da taglio. Il presidente della Sasi, Domenico Scutti, risponde alla diffida dei sindaci del PDL Patrizio Dercole, è ineleggibile e in consiglio d'amministrazione gli succede il secondo più votato della lista del centrodestra. Il consiglio di amministrazione della Sasi è stato rinnovato secondo l'indicazione della legge nazionale sulla spending review. Ora è composto dal presidente e amministratore delegato e da due dipendenti comunali. È questa la replica di Domenico Scutti, presidente della Sasi S.p.A. che in una nota alla stampa risponde alla diffida dei sindaci del PDL. L'elezione si è svolta come da statuto, scrive Scutti, e vista l'ineleggibilità di Patrizio Dercole, ex presidente Isi, poiché non dipendente comunale, vedrà l'insediamento del successivo che in percentuale rispetto alla lista di appartenenza ha riportato più voti. Nelle CDA del secondo mandato Scutti, quindi, dovrebbero sedere Brunella Tarantini per il centro-sinistra e Vincenzo Marcello per il centro-destra. Abbiamo dovuto attenerci ad uno statuto cervellotico ereditato che detta dei criteri che non possono essere interpretati in maniera discrezionale, spiega Scutti nella nota alla stampa. Nessun retropensiero, quindi, né strategie per escludere. Anche il presidente della regione, Chiodi, che nelle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, così come vertici regionali, aggiunge Scutti, ci riconosce ufficialmente la giustezza delle nostre azioni. Ora occorre tornare a concentrarci sul miglioramento del servizio e finire il lavoro iniziato tre anni fa per risanare definitivamente i bilanci, oltre a mettere in campo un numero rilevante di investimenti assolutamente necessari per evitare infrazioni e rilievi da parte delle autorità competenti. Alla Sasi, scrive ancora Scutti, la gran parte dei sindaci generosamente ha pensato ai cittadini e non all'interesse di parte. Tanta fiducia, scrive ancora Scutti, va ripagata con ancora più impegno nel risolvere la gigantesca mole di problemi che ancora affligge la società. A testimonianza del fatto che i guai non sono affatto finiti, Scutti riferisce di aver appreso dagli organi di stampa di un avviso di garanzia per l'approvazione del bilancio 2010, ma chiarisce Scutti che il suo primo CDA si è insediato solo a fine novembre di quell'anno. Il bilancio fatto dal precedente CDA è stato quindi approvato per andare avanti ad operare. In sostanza, chiarisce ancora Scutti nella nota, si contesta una serie di omissioni da contabilizzare nei bilanci, azioni che noi abbiamo prontamente messo in atto nel bilancio 2011. Ad esempio, conclude Scutti, lo stralcio dei crediti inesigibili. Sono ancora preoccupanti le conseguenze psicologiche sulla popolazione dopo il sisma del 2009. Secondo uno studio condotto dalla ASL Aquilana, 40 donne su 80 soffrono di ansia. Le conseguenze psicologiche del terremoto a circa quattro anni e mezzo dal tragico evento sono preoccupanti. Sulla psiche delle donne aquilane continua a proiettarsi l'ombra lunga del sisma. All'Aquila, secondo uno screening effettuato dalla ASL Avezzano sul Monal Aquila, 40 donne su 80 soffrono di ansia e depressione con sintomi sottotraccia, secondo gli esperti da seguire, per evitare l'insorgere di malattie conclamate, mentre 20 hanno uno stato di malessere ansioso più marcato che richiede l'aiuto dello specialista. In alcune donne sono anche emersi casi sommersi di anoressia o bulimia in età compresa tra i 18 e i 30 anni, non diagnosticati forse per pudore o imbarazzo. A mostrare i picchi più alti dell'ansia sono le donne che vivono nelle periferie della città, costrette a cambiare quartiere o area urbana dopo il terremoto. Il motivo sarebbe da ricercare nella carenza di coesione sociale riconducibile e all'assenza di centri di aggregazione, negozi, nuclei attrattivi. Il quadro complessivo emerge da un'indagine effettuata il 10 ottobre scorso in concomitanza con la giornata nazionale dedicata alla salute mentale femminile promossa in Italia dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna. All'Aquila lo screening è stato condotto dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Universitario di L'Aquila con visite gratuite e punti di informazione sui disagi psichici, nelle postazioni ticket e negli ambulatori dell'ospedale San Salvatore. Il lavoro è stato svolto tramite la compilazione di schede socio-anagrafiche. Le donne coinvolte sono in gran parte coniugate, la metà con due o più figli, ma anche di età avanzata fino ai 70 anni. L'80% del campione, messo dai medici sotto la lente di ingrandimento, è tornata a vivere nella propria abitazione dopo il terremoto o non l'ha mai abbandonata, mentre il restante 20% è risultato vivere in un alloggio del progetto case o in un villaggio MAP. Restiamo nel capoluogo di regione anche con il prossimo servizio per occuparci del premio internazionale di poesia dedicato all'audomia Bonanni. Una giuria tecnica composta da grandi nomi, quella per selezionare la terna di vincitori del premio letterario nazionale intitolato all'audomia Bonanni, scrittrice di romanzi che ha collezionato grandi successi negli anni 70, ma che, come accade frequentemente nel mondo dell'editoria, è poi stata dimenticata. A decretare il finalista che si aggiudicherà il primo premio saranno però anche i ragazzi delle scuole di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Sulla base della terna dei vincitori i ragazzi sceglieranno poi il vincitore del premio, quindi è attribuita a loro la responsabilità, la competenza, l'obiettivo di scegliere il vincitore. Qui di nuovo si dimostra la loro competenza e la loro responsabilità e sceglieranno, ognuno darà un voto e la somma dei voti. Si somma ai voti della giuria tecnica, quindi quella con i grossi nomi, il parere di un ragazzo varrà come il parere di Sergio Zavoli o di Maria Luisa Spaziani. Questo perché? Perché vogliamo far capire ai ragazzi che sono importanti, che possono decidere, che devono saper decidere. Il concorso si articola in tre sezioni, quello della poesia edita, quella dedicata agli esordienti che non abbiano raggiunto il 35esimo anno di età e quella di poesia inedita riservata agli studenti di un istituto superiore della provincia dell'Aquila per una raccolta di dieci poesie. Sono emozionata perché mi rendo conto di comunque partecipare alla scelta di una poesia o comunque di una serie di poesie per un concorso molto importante e mi sento gratificata. Il preside in realtà mi ha inviato una lettera in classe, mi ha inviato la circolare in classe e sotto praticamente le informazioni riguardanti il concorso mi ha scritto io ho scelto te e aspetto la tua risposta affermativa. Brogiato sembra essere il prediletto dalla giuria per aggiudicarsi il primo premio di 6.000 euro mentre per il concorso di poesia a tema libero riservato ai detenuti di penitenziari italiani giunto ormai al settimo anno la terna vincente è rappresentata da Gabriele Aral, Antonio Cesarano e Giuseppe Carnevale. venerdì 25 ottobre si terrà la cerimonia di premiazione al ridotto del teatro comunale di L'Aquila. Ed ora la pagina sportiva inarrestabile Virtus che sbanca l'uscita resta in vetta alla classifica per la quarta settimana a reti rossonere di Falcinelli e Casarini. L'onda rossonera si abbatte anche sullo Ionio e Lanciano mantiene la vetta vincendo va sbancando l'uscita di Crotone una delle squadre più in forma del momento successo senza fronzoli e meritatissimo lo scambio di cortesie tra mister Baroni e Massimo Drago proprio Baroni propone Minotti Casarini e Paghera in mezzo la difesa è quella titolare Falcinelli sostenuto dal rientrante Tiam e da Piccolo in avanti circa 200 i sostenitori rossoneri al seguito Virtus Lanciano padrona del campo anche se all'inizio ci sarà Torromino che metterà in apprensione il portiere Sepe sempre ben piazzato dopo volgimento di fronte guardate la grandissima occasione di poter passare in vantaggio da calcio d'angolo Mammarella per Falcinelli splendido il suo gesto atletico e Gomis fa quel che può mandando in calcio d'angolo tutto questo mentre Torromino di destro da distanza ravvicinata impegna ancora una volta Sepe fronte opposto Piccolo combatte sulla destra lotta su due avversari riesce ad andare al tiro ma il pallone si spegne di poco alto sulla traversa Lanciano che guadagna metri gioca con grande personalità e squadra vera tutto questo mentre Mazzotta scambia con Torromino ma c'è l'intervento di Decolle col corpo che dice no ripresa tante emozioni con i tre gol ma soprattutto quelli rossoneri ancora il Lanciano molto manovriero col pallone che arriva in mezzo e guardate Diego Falcinelli che colpisce di sinistro e infila all'angolino fa tutto la perfezione l'attaccante rossonero che si sbarazza di prestia il difensore centrale che lo francobollava la festa sotto la curva invisibilio dei tifosi lancianesi ma attenzione perché il Crotone reagisce lo fa sparando questo tiro alto sopra la traversa ad opera di Pettinari ancora il Lanciano molto manovriero che sfrutta i varchi che si aprono ed è Paghera che c'entra il palo pieno il Lanciano la vuole chiudere questa partita guardate come arpiona il pallone di destro il controllo ancora il destro di Paghera il palo dice no ancora il capovolgimento di fronte ma il portiere sepe è una garanzia è sempre attento poi Casarini cerca il gol del sabato da 50 metri vede il portiere Gomis fuori dai pali e prova a sorprendere sarebbe stato il gol da Cineteca dell'anno il Crotone è ancora attento e volenteroso nel ribaltare il risultato nel recuperare lo svantaggio ma non si passa da quelle parti mentre il portiere Gomis è costretto agli straordinari su questo tiro dalla destra ma il raddoppio dietro l'ango Falcinelli per la sovrapposizione di Casarini il tocco preciso ed è lo 0 a 2 risultato in tasca e gran festa tutto bello un'azione che è nata da lontana poi propiziata da Falcinelli finalizzata dal grandissimo Casarini arriverà solo nel finale al secondo minuto di recupero il gol della bandiera per il Crotone che nulla può sullo strapotere rosso-nero la capolista di nome e di fatto bene così il Lanciano più due rispetto alle seconde e altra grande prestazione autorevole si gioisce al tripice fischio finale per la quarta settimana una bella foto alla vetta della classifica il Pescara non passa l'esame dell'Atina e Biancazzurri perdono in casa per 1-0 piombando in piena zona retrocessione ormai è crisi aperta da domani la squadra andrà in ritiro è stata la più brutta partita del Pescara dal precampionato ha detto il presidente Sebastiani Marino non è però in discussione passa in Latina l'Adriatico Giovanni Cornacchia ed è crisi Biancazzurra al 91esimo fischi sonori per una squadra che non va e crisi con tutti in ritiro a partire da dopodomani a festeggiare i tifosi laziali mister Marino propone il 3-4-3 visto a Palermo con Ragusa esterno d'attacco Bocchetti il luogo dell'infortunato Capuano Politano va in panchina 5-3-2 invece per i laziali con Jonatas in avanti affiancato da Ghezzal il Pescara giochicchia si perde come al solito in fase di finalizzazione squadra insomma leggerina subito l'azione con Ragusa che salta un uomo cerca di accentrarsi fa partire il suo destro toccato da un avversario ma il pallone termina sul fondo rivediamo nel replay la prima occasione sul fronte opposto il Latina che si fa sotto questa incursione da destra il pallone sfila davanti al portiere Belardi senza che Ghezzal riesca a deviare e ancora il Pescara ribaltamento di fronte un tiro senza nessuna belletà che il portiere Iacobucci para senza assolutamente nessun affanno ancora Ragusa si porta il pallone di testa in avanti qualcuno spizza pallone a Balzano carica il destro che colpisce l'esterno della rete rivediamo quest'altra occasione e poi Balzano il suo stop ma il pallone viene anche toccato lo stesso Balzano che ruba palla poi trova lo spazio per il tiro carica il destro protezza balistica la traversa dice no al vantaggio bianco-azzurro sarà questa l'occasione più chiara per il Pescara poi ci si proverà a ribadire in rete rivediamo la prudezza di Balzano ma nessuno sarà accorto con la difesa che disimpegna ribaltamento di fronte Gezzal che riceve palla il suo destro a giro però non ha fortuna e non centra lo specchio della porta tutto qui il primo tempo nella ripresa sarà in Latina progressivamente a salire in cattedra spifferi sinistri per Mr. Marino con la squadra scollata che manca anche di personalità e vedete questo colpo di testa con Mascara che non ha assolutamente nessun frutto ancora il Pescara il pallone sulla sinistra ma vedete questo tiro di Rossi che non c'entra lo specchio della porta poi soluzione da palla inattiva con un calcio d'angolo colpito ma ancora senza fortuna e guardate questo gol annullato in posizione di fuorigioco da Jonatas ed è il preludio al gol con Latina che prende campo guadagna metri e agisce in contropiede vedete Gezzal palla al piede avanza poi il suo fendente il suo tracciante termina sulla sinistra del portiere il solo in Latina che ci crede ancora con quest'occasione che frutta il gol prudezza baristica da parte dell'ex Jonatas che di destro infila il portiere di certo non esente da colpe questione di centimetri e il pallone non irresistibile gli passa tra le mani è un colpo incredibile per il Pescara che non abbozza nessuna reazione anzi vedete che lo stesso Jonatas che mette in mezzo per Gezzal che non ci arriva triplice fischio finale crisi profonda per il Delfino che adesso rischia tanto ed è tutto vi ricordo che servizi approfondimenti e programmi sono disponibili sul nostro sito internet tgmax.it la nostra informazione torna come sempre domani domenica con il TG7 grazie dell'attenzione e buona domenica a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti